buonasera ragazze vi ritrovate sul mio canale sono sempre io gabriella in arte briga bijou perché ci incontriamo oggi perché vi farò cercherò di fare il tutorial di questi orecchini realizzati tutti con i materiali acquistati da semplici bijou dalla cara rene come vedete l'orecchino è abbastanza lungo ma basta non mettere la goccia ed eventualmente mettere un perno più piccino e diventa più più sobrio però diciamo che anche se è lungo non non dà fastidio io lo trovo molto fine ed elegante nella sua semplicità poi mi direte voi cosa ne pensate cerco di mostrarvelo oggi fa freddino ed il tempo è veramente brutto allora cerco di mostrarvelo ho utilizzato dei mezzi cristalli perle da 6 due colori di piattine una goccina delle rocaille 11 0 di lato color pomegranate poi vabbè vi mostrerò la bustina di questa navetta bella grande e poi questo perno veramente grazie bellissimo e niente sono molto 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 soddisfatta del risultato finale perché nella sua semplicità sortisce un bel effetto insomma si fa si fa notare il tutorial non è difficile non è proprio il classico modulo base però mettendo dietro una una base che poi vi mostrerò che può essere la b di fondation le assistive staff o chi è abituata ad usare il feltro non lo so comunque io vado con le basi sono abituato a fare così e quindi condivido il mio metodo poi vi siete liberissime di incollare e di procedere come volete l'unica difficoltà sarà qui nel mettere questa perla da 6 ben centrata quindi solo lì ci può essere un po di difficoltà però poi alla fine il modulo è veramente semplicissimo niente questo è il mio procedo e partiamo oggi sono in tono col divano della serie non mi piace il colore mattone vabbè ragazzi ogni tanto vi devo far ridere procediamo subito se questo video vi piace condividete mettete mi un like e niente ragazze un bacione ciao allora eccoci qua passiamo subito all'elenco dei materiali allora ci servirà per realizzare questo orecchino una navette nel mio caso è questa vintage rose 32 x 17 ovviamente ci servirà un perno o una monachella ci serviranno delle rocaille io sto utilizzando vabbè se era rotta la bustina sto utilizzando queste della to che sono le linee milky pomegranate o qualcosa del genere queste le avevo acquistate un po di tempo fa non è nell'ultimo acquisto sul sito semplice bijou ma lo so che ce l'ha perché le ho viste poi servirà un mezzo cristallo per ogni elemento è naturalmente un mezzo cristallo da 04 servirà una perlina una perla da 6 mm queste sono bellissime le powdery antique gold poi dopo servirà ovviamente una goccina una qualsiasi queste lo acquistate tanto tempo fa un cipollottino o un qualsiasi elemento che possa fungere da congiunzione e poi ovviamente servirà il su touch serviranno due pezzi due colori scusatemi due colorazioni di su touch per realizzare questo orecchino di cui due colori che abbiano una lunghezza di 14 cm quindi un pezzetto da 14 oro è un pezzetto da 14 questo satin black e poi ne servirà un altro pezzettino nel mio caso è sempre nero da 9 cm io ovviamente ho già tagliato e messo un po di colla ragazze perché io vado veramente infissa odio quando si sfilacciano le piattine mentre sto cucendo e quindi io lo faccio sempre mi taglio i pezzettini e poi ci metto una cucina di colla infatti le mie mani le ho già lavate ma è rimasto qualche residuo poi io ovviamente servirà un ago io sto utilizzando questo della tulip da 10 io mi trovo molto bene cogliati della tulip e in questo caso sto utilizzando due colori di miuki perché ovviamente qui quello nero si vedrebbe e quindi utilizzo quello oro nella restante parte dell'orecchino utilizzo tutto quello nero poi io utilizzo ragazze io utilizzo la building foundation poi la stif staff io quando incastono al su touch non uso la colla l'ho detto tante volte utilizzo una base e poi cucio cioè utilizzo la colla ma la utilizzo per incollare la base al cristallo e non per incollare le piattine al cristallo io faccio pasticci quindi questo è il mio metodo e io lo condivido poi liberissimo ognuno di fare come preferisce ovviamente guardate sempre che le piattine prima di fissarle di metterle insieme abbiano lo stesso verso e andate poi a vedere il dritto e rovescio del lavoro aspettate cerco se trovo un'altra piattina perché su queste il dritto e rovescio non si vede tantissimo ok scusate ho preso un altro pezzo di piattina dove si vede meglio ecco qui vedete questo lato come bello liscio vedete questo è più tra parentesi ciclinato quindi quando vi posizionate le piattine qui non si vede un granché nero e oro e lo so però queste erano le piatti che avevo acquistato quindi mi raccomando posizionate le nello stesso verso dopo di che ecco e ovviamente all'interno metterò quella color oro e dall'esterno ho messo quella nera perché questa parte l'aggiungerò dopo in un momento successivo ovviamente l'orecchino deve essere speculare quindi io metterò da un lato mi posizionano la piattina in questo modo perché qui poi dopo da questo lato dovrà effettuare questa curva quindi mi posiziono qui ago e filo e do qualche puntino ovviamente scusatemi dimenticavo ho già incollato con un po di colla di 7000 il la building foundation alla alla mia navetta ovviamente anziché fare una sola croce ho fatto anche degli spacchetti e un taglietto un po più lungo per adattarlo insomma bene alla forma della navetta ok scucidiamo allora come vedete ho dato qualche puntino e poi comincio a cucire ho guardato il verso delle piattine ovviamente mi regolò che una parte debba andare sul dietro e questa parte invece andrà davanti con il riccioletto e quindi giro e comincio a cucire ansia totale ragazze perché quando devo fare questi tutorial ansia cominciamo quindi a cucire mi raccomando carezzate sempre le piattine fateci una coccola e poi ripuntate nella bin in foundation e in tutte e due le piattine con le mani vedete io le tengo belle piatte fate attenzione a non tirarvi dietro tutto come faccio io di solito e poi date piccoli puntini ovviamente come dico sempre sul davanti anche se nero su nero date puntini più piccoli sul retro invece potete andare più larghine quindi vi spostate piano pianino e procedete così oggi c'è veramente una luce corribile in questo modo vi faccio vedere e continuiamo mantengo con questo dito la navette con questo mantengo le piattine piatte ferme e vado sempre al centro e procedo così ovviamente io sono in una posizione scomodissima io normalmente non cuscio col tappetino ma cucio molto più vicino a me però ovviamente per mostrarvi devo cambiare posizione infatti sto facendo dei punti orribili però il senso è chiaro quindi cucite tutta questa parte e cucite anche tutto l'altro lato allora abbiamo cucito tutto questo lato ovviamente ogni tanto portatevi sul davanti per vedere che insomma il cristallo e le piattine siano ben allineate ok qui davanti dovrà avvenire il ricciolo ok dove mettiamo la perla quindi ora non fissiamo questo punto ma andiamo a cucire anche l'altro lato in questo modo e poi dopo facciamo il ricciolino perché qui dobbiamo stare attente che questo questa parte qui non venga brutta di congiunzione che una sia troppo giù l'altra sia troppo su quindi qua bisogna prestare attenzione allora rifaccio un altro puntino a questo punto può sciogli lingua faccio un altro puntino a questo punto così scusatemi sempre poi dopo ovviamente quando tirate il filo non tirate tantissimo perché altrimenti deve essere la giusta tensione perché altrimenti vi tirate poi le piattine troppo indietro quindi dovete avere la giusta tensione per far restare allineate piattina cristalli e la base ok ora potete o fare un nodino qui e poi cominciate dall'altro lato o semplicemente io faccio così passo sotto si spreca un po di filo passo sotto e vado dall'altro lato poi sta voi insomma io faccio così per velocità e quindi come ho cucito da questo lato comincio a cucire anche da quest'altro tengo sempre fermo entro nelle stif staff ed esco dove sono le due piatti e proseguo non vi faccio vedere tutti i punti se no arriviamo a pasqua ok siamo arrivati anche alla fine dell'altro lato ora dopo un ultimo puntino ok e dentro nella p di fondi show ora non fisso proprio in maniera troppo 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 decisa nel senso non tiro tantissimo perché questa qui si deve andare a sovrapporre e non voglio creare difetti tanto dopo posso sempre andare a cucire in maniera trasversale ed unire le due parti ok ora viene tra virgolette la parte un po più difficile perché dobbiamo andare a mettere la perla qui su la perla da 6 questa qui allora cosa faccio io entro ovviamente nelle da sotto entro poi ragazzi è una questione molto di manualità e poi mano mano imparerete e spunto sul davanti dove c'è la punta ora penso che sia abbastanza intuibile se avete beccato la punta oppure no e se state procedendo io per esempio era un po spostata quindi vado con lago e me lo sposto un pochino io penso di essere nella giusta posizione ok che faccio vi mostro proprio come faccio io resto così con lago perciò prendo la mia perla la posizione in questo modo proprio così come vedete e mi faccio il ghirigoro in questo modo tiro leggermente lago così mi rendo conto se sono dritta oppure no se avete difficoltà preparatevi un pezzetto di carta e vi rendete conto così vi disegnate una croce sovrapponete più o meno e vi rendete conto allineate se state procedendo in maniera per pendicolare oppure no vi potrebbe essere d'aiuto anche con elementi che sono un po più complicati ok quindi una volta che abbiamo deciso che stiamo procedendo bene io penso che sto procedendo bene mantengo ovviamente tutte le piattine e continua a spingere con lago in questo modo entrando in tutte e due le piattine dopo di che mi giro e ridiscendo è un momento delicato questo io ho anche dimenticato di cambiare il filo ho lasciato quello nero e quindi farò un puntino piccolissimo perché non si veda e ritorno giù in questo modo ok spero si sia visto tutto non lo so ora vado un attimino affistarmi questa parte mi taglio questo in eccesso che mi dà fastidio da fastidio e mi vado a cucire questa parte qui quindi quindi questa perla rimane la lasciamo un attimino così andiamo trasversale in questo modo così mi fisso tra di loro le due piattine rientro centrando lo spazio tra la piattina oro e quella nera e poi continuo il mio ricciolino quindi valutate bene questa cosa che sia centrato mi raccomando dovete centrare bene e poi con un po di punti fissate il tutto centro sempre da dietro le piattine e mi porto tra queste due qui davanti quindi fisso prima un po qui attenzione alle mani dietro continuo ad andare qui tra le due piattine ovviamente voi avrete se siete alle prime armi qualche difficoltà in più però l'importante è tenere bene in mano il lavoro allora come vedete io bene o male l'ho fissato e quindi poi posso procedere a cucire qui intorno cambio il filo perché se do dei punti qui vedete qui c'è questo piccolissimo puntino nero dove ho cuscito però io dopo ci vado a mettere le locale non si vedrà però se cucio su questi dati con il filato nero non mi sembra il caso come vedete qui è fatto bene poi andiamo a sistemare ce lo posizioniamo e direi che è centrato se vi può essere d'aiuto vi potete fare anche voi un disegnino ovviamente controllo di averlo fatto speculare si ok altrimenti stavamo fritte ok cambio un attimo il filo scusatemi prima di cambiare il filo do qualche altro puntino entrando da questo lato e spuntando qui in modo trasversale voi dovete cercare di cucire il più possibile gli elementi tra di loro e vado e torno indietro ok quindi date qualche puntino per fissare il tutto cambio ago non vi faccio vedere proprio singolo punto per singolo punto altrimenti durerà un'oretta siamo così tutte le piattine insieme e facciamo qualche nodino spero si sia visto qualcosa altrimenti taglio ok taglio qui e taglio anche qui tanto queste non ci serviranno più metterò cincinino di colla cambio ago e cuccio qui ok cambiato non lago ma il filo dopodiché faccio qualche passaggio in questo modo piccoli sempre da fuori e più grandi internamente così per fissare tutta la lavorazione io comunque non l'ho ancora detto nel video ma mi sono trovata bene ad utilizzare queste queste piattine veramente non ho non ho riscontrato alcuna difficoltà ovviamente io ora per velocità nel video non vi faccio non vi mostro il cappietto che ho fatto con le due rocaille perché voglio dire non c'è nessuna difficoltà a fare questo cappietto ma se fossi stata insomma se stessi lavorando per conto mio senza fare il tutorial probabilmente mi sarei trovata a fissare questa parte avrei anche inserito le rocaille le rocaille quante ci avrei anche inserito le rocaille ed il cappietto non lo faccio in questo caso per una questione di velocità ok finiamo tutto e chiudiamo fatto nodino chiuso ovviamente ora dobbiamo creare questa parte qui quindi prendo il mio pezzettino di sutash quello da 9 e guardo ovviamente sempre il dritto e rovescio il verso e lo posiziono in questo modo ok perché devo creare questa parte prendo naturalmente il mio ago aspettate ok scusatemi avevo il filo chiaro allora mi posiziono in questo modo giro il lavoro e infilo nelle due piattine quella oro quella nera ed infilo al centro e dentro ed esco al centro della piattina che dovremo andare ad unire in realtà la parte più difficile è proprio il primo punto perché poi una volta che dobbiamo mantenere in questo modo poi una volta che si è bloccata anche con un semplice puntino possiamo tranquillamente andare a cucire con più facilità sempre puntini più grandi dall'interno e puntini più piccoli dall'esterno posso visto che non è uno spessore molto grosso ma sono solo tre piattine entrare anche nella base e nelle tre piattine proprio per fare ancora più una lavorazione compatta in questo modo vado un pochino sul davanti e ripasso quindi sarà una doppia cucitura anche con le piattine di sotto diventerà veramente un pezzo unico va bene procediamo e arriviamo fin qui ovviamente sono arrivata dall'altro lato e come abbiamo fatto per la punta qui dobbiamo fare anche dall'altro lato quindi regoliamoci posizioniamoci al centro dove l'altra punta della navette quindi inseriamo lago prendiamo il nostro mezzo cristallo in questo caso è da 4 e circondiamo bellissime in questo modo ok questo modo teniamo con quest'altra mano e spingiamo ecco senza prendere con il filo l'altra parte in questo modo ridiscendiamo facciamo un piccolo puntino e ridiscendiamo scusate io il telefonino davanti non vedo un ciuffolo ok penso di aver centrato sì ok ce l'abbiamo fatta scusate il bello della diretta mi vado a girare ok ok ora fissiamo anche il retro e poi diamo qualche altro puntino ok cerchiamo di non fare né questo lavoro di tirare e né questo cerchiamo di stare dritti e di fissare passiamo qualche altra volta in questo verso modo tale anche perché dopo ci dovremmo andare a posizionare a mettere la goccia quindi è meglio creare una una struttura cucita insomma bene che sia resistente se no si potrebbe srotolare e non è carino che il su touch si srotoli e no va bene questi sono delle piccole parentesi non troppo professionali però io sono così ok quindi procediamo così io devo cambiare il filo perché come vedete si è ridotto all'osso in questo senso fissiamo anche in questo senso se avete difficoltà non sapete se state andando dritte storte così prendete la vostra base e vi rendete conto ok ok stacco come sempre cucite sia in questo senso e sia a 45 gradi quindi da metà piattina di dietro a metà piattina sul davanti e rientrate sempre a 45 gradi ok 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 ho tagliato la vettina in eccesso ho messo un puntino di colla giusto per non farla sfilacciare ora ago filo e questo è il pezzetto avevo tagliato e le rocaille perché andiamo a fare questo decoro laterale forza ragazze siamo quasi giunte alla fine allora io mi metto con lago il filo proprio qui dove c'è il ricciolino dove voglio che comincino le mie rocaille quindi inserisco tutte le rocaille sul lago e ovviamente in questo caso noi le mettiamo in questo senso altrimenti poi proteggiamo metterle al brick stitch ma io preferisco infilarle tutte e poi ripassare oppure potremmo infilarne quattro per esempio questo modo poi sta a voi e spingiamo le ed entriamo e ne infiliamo le entriamo nelle due e ne infiliamo altre due e così di seguito ops e così di seguito questo quindi è un metodo 2 rientri 2 rientri oppure ne infili tre e rientri in una ecco lo faccio vedere giusto per una volta che ci troviamo ho infilato la terza spingo per accostare far sì che non restino spazi e rientro poi rientro nelle due e procedo così per tutto il giro però è veramente un lavoro lunghissimo quindi io preferisco infilarle tutte 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 quante e poi dopo ripasso ora vi mostro ok se acquistate o avete la stessa navette io in questo spazio qui ho infilato 25 rocaille quindi una volta che lo infilate tutte vedete arrivo proprio qui dove si congiunge dove c'è questa parte qui e quindi entro in tutte e due le piattine in questo modo ok e poi ripasso quindi riesco riesco e ripasso nelle perline non a due a due a caso mai tre o quattro scusatemi è l'abitudine per vedere avvicino il lavoro e quindi in questo modo qui e rientro e procedete così insomma giusto per facilitarci un po il lavoro rientrate ripassate rientrate ripassate e così via finché non vedete che siano ben fermi anche perché queste perline qua non è che devono essere di supporto o io dopo ci devo andare a cucire qualcosa vicino è semplicemente un decoro quindi fare il brick stitch o passare infilare due perline per volta io in questi casi qui non lo faccio ok siamo a più di 25 minuti parte finale inserimento della goccia abbiamo fatto il nostro decorino inserimento della goccia entro nella piattina nel mezzo cristallo ed esco da questo lato e vado ad inserire una rocaille un cipollottino questi sono quelli tre per quattro e la goccia che mi ero preparata voi potete mettere ovviamente qualsiasi cosa o addirittura non non mettere nulla perché insomma può piacere semplicemente l'orecchino fatto con la mametta inserisco un'altra rocaille 11 e rientro in tutte le parti c'è nella goccia nel cipollottino nella rocaille nel mezzo cristallo in tutto ed esco qui ovviamente cercate di non cucirvi la mano ok in questo modo fate questa operazione un paio di volte per fissare il tutto come vedete la goccia è fissata riprendiamo il nostro foglio e direi che è centrata è simmetrico ok ora andiamo portiamoci su andiamo a inserire delle rocaille un anellino e poi il gancetto per una volta per una volta vi mostro come faccio io a fare il nodino in filo lago una volta poi un'altra volta dopodiché con il filo faccio uno per i tuoi spendi di materiali perché non li avevo insomma mai provati ho fatto bene ad acquistarli un bacio ciao ragazze buona creatività a tutte e soprattutto spolliciate 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 spolliciate